Come ci si sente da cittadino diamantese? Benissimo, il primo bagno da cittadino olorario. Oggi è il primo giorno? Sì, è il primo giorno. È interessante l'intervista a Monicelli dove afferma che il miglior film è quello muto e senza musica, dove le immagini comunque si muovono e quindi hanno un significato molto importante. Per lei? No, vabbè, lui come Pirandello era per il cinema muto. Il sonoro lo definiva come Pirandello, dico, come uno sguaiato borbottamento di ventrilochi. E quindi, ma molti, anche Moravia era per il cinema. Quindi le parole comunque fanno cambiare quello che è? Secondo loro sì, però per esempio per Ferrara l'altro giorno quando facevamo l'intervista, non so se ti ricordi al Ferretti, dice esattamente il contrario. Cioè dice che il sonoro è essenziale per il cinema. Sono d'accordo con Ferrara. Anche per la lezione di Giofranco Bertalotta ieri sera, ci ha comunque comunicato e ci ha fatto capire che la musica e le parole sono il movimento dell'uomo. Sì, è vero. Nelle parole ci deve essere sempre la musica, altrimenti non c'è ritmo, non c'è armonia. Dice Orsino nella 12esima notte di Shakespeare, la musica è il nutrimento dell'amore. Shylock nel mercante di Venezia, che poi è un personaggio discutibile, dice una cosa interessante, che è quello di guardarsi dalle persone a cui non piace la musica. Quindi possiamo concludere con questa battuta. Grazie.